Ombra, figura visibile di persona defunta che appare in allucinazione ai sopravvissuti. Ombra, spettro, essere soprannaturale di solito malefico, immaginato dalla fantasia popolare. Queste sono alcune delle molteplici definizioni che vengono attribuite alla parola fantasma. Ma questi esseri considerati soprannaturali cosa sono realmente? Sono solo frutto di leggende e della fervida immaginazione dell'essere umano? Oppure dietro i racconti che parlano di queste entità si cela qualcosa di veritiero? Sappiamo che quasi sempre le leggende hanno un qualche fondo di verità. E forse anche tutto ciò che alleggia attorno ai fantasmi non è poi da considerarsi così assurdo. La parola fantasma deriva dal greco fandasma, che significa apparizione. Nella tradizione popolare si identifica un fantasma come lo spirito di una persona deceduta, spesso in condizioni molto violente, che ha ancora un conto in sospeso con il mondo terreno e per questo vagherebbe tra noi. Spesso ci si riferisce a questa entità come una presenza incorporea, a volte anche caratterizzata da alcuni elementi macabri o sinistri, come l'assenza della testa, la presenza di rumori di catene o voci, che fanno rabbrividire al solo pensiero. La figura del fantasma è così popolare, che alcuni hanno provato anche a fornire una spiegazione pseudoscientifica, con una teoria che sostiene che grazie a particolari situazioni ambientali, si possa creare una sorta di buco nella luce, che renderebbe possibile vedere nel passato per pochi istanti. Questo, infatti, sarebbe il motivo del perché i fantasmi vengono visti oltrepassare i muri, fluttuare nell'aria e camminare immersi per metà nella strada. Questo perché molto probabilmente nel passato non esisteva quel determinato muro, c'era una duna, oppure la strada non era ancora stata costruita. Questa teoria, però, non spiega il fatto di come molti fantasmi possono interagire con noi. Al mondo esistono infinite storie di fantasmi e una meriade di persone che giurano di aver avuto un contatto con essi. Ma oggi ci soffermeremo su una storia in particolare, forse la più famosa in Italia, ovvero la storia del fantasma di Gwendalina, meglio nota col nome Azzurrina. La leggenda di Azzurrina viene tramandata oralmente ormai da secoli dagli abitanti di Montebello di Torriana, una frazione del comune di Poggio Torriana, in provincia di Rimini. Come si sa, in questi casi il racconto dei fatti accaduti non è mai fedele all'originale, ma subisce inevitabilmente una modificazione dovuta al tempo. Esso è riportato per la prima volta in un documento scritto nel 1620, dopo quasi tre secoli di leggenda popolare tramandata oralmente. Questo documento è conosciuto con il titolo di Mons Belli et Deligne, ed è custodito all'interno del castello stesso. La sua paternità sembra appartenere a un monaco o un sacerdote che vi raccolse tutta una serie di leggende popolari originari di quella terra. Ma ecco, grazie anche a questo documento, cosa sappiamo oggi di questa storia. Gwendalina nacque nel 1370 ed era la figlia del feudatario di Montebello, Ugo Linuccio o Uguccione. Solitamente padre e figlia sono indicati col cognome Malatesta, famiglia signorile di Rimini che allora controllava anche Montebello. Gwendalina era una bambina albina e la superstizione popolare del tempo collegava l'albinismo con eventi di natura magica e perfino diabolica. Per questo, il padre aveva deciso di farla sempre scortare da un paio di guardie e non la faceva mai uscire dal castello dove abitavano per proteggerla dalle dicerie e dal pregiudizio popolare. Per tentare di nascondere la sua diversità, la mandre le tingeva ripetutamente i capelli con pigmenti di natura vegetale. Questi, complici la scarsa capacità dei capelli albini di trattenere il pigmento, avevano dato alla bimba riflessi azzurri. Questa particolarità, unita al colore azzurro cielo dei suoi occhi, ne originarono il soprannome Azzurrina. Ma come mai si parlò tanto di questa bambina? Ebbene, la piccola, nel 1375, all'età di soli cinque anni, fu protagonista di un triste fatto di cronaca. Era il 21 giugno, il padre era fuori in battaglia e Azzurrina, come sempre vigilata dai due ermicemi, stava giocando nel castello di Montebello con una palla di stracci, mentre fuori infuriava un temporale. Ad un certo punto, la palla con cui la bambina stava giocando cade rimbalzando per le scale che portavano alla ghiacciaia sotterranea. Così Azzurrina la rincorse nel vano tentativo di recuperarla. Ma all'improvviso, le guardie sentono un urlo lancinante, capiscono che proveniva dalla ghiacciaia, e corrono nel locale entrando dall'unico ingresso. Essi, però, non trovarono traccia né della bambina, né della palla. Il temporale sarebbe cessato con la scomparsa di Azzurrina e il suo corpo non è mai stato ritrovato. Qui finisce la tragica storia di Gwendalina e inizia la misteriosa leggenda di Azzurrina. E si narra che, allo scadere del sostizio estivo di ogni lustro, un suono proveniente da quel sotterraneo cunicolo si faccia ancora sentire. 1990 Il castello è aperto al pubblico da appena un anno. Ciò nonostante, la leggenda è già di dominio pubblico. C'è chi si schiera subito a sostenerla ciecamente, c'è chi la contesta. Molti la temono, altri la deritono, ma tutti ne parlano. È il 21 giugno di quell'anno, quando una truppa televisiva della RAI girò un documentario all'interno del castello. I tecnici effettuarono le prime registrazioni. Le apparecchiature sono sofisticate. Tutte le frequenze vengono incise. Infine, in sede di studio, si procede all'ascolto. Tuoni, uno scrosciare violento di pioggia. E poi, un suono inquietante. Il fuori è stato fatto. Il fuori è stato fatto. In fronte è stato fatto. Il fuori è stato fatto. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. E' senza dubbi una bambina, si distinguono il volto delicato, i capelli sciolti sulle spalle, le maniche ampie ed è il vestito dalla gonna lunga e gonfia. Dunque, se escludiamo la beffa volontaria e la suggestione, che altra spiegazione rimane? Queste immagini lattiginosa, evanescente ed eterea, può essere davvero uno spettro? È il fantasma della piccola scomparsa sette secoli fa? La storia di Azzurrina è di certo una delle più affascinanti sui fantasmi in Italia. Crederci o no, poco importa. La superstizione, la vita dopo la morte e la suggestione hanno reso il castello un luogo di culto per gli appassionati del paranormale, per studiosi del campo e per tutti quei turisti alla ricerca del brevido. Se ti è piaciuto questo video, metti mi piace e iscriviti al nostro canale. Ringraziamo tutti coloro che ci hanno seguito nel nostro percorso quest'anno. Ci vediamo l'anno prossimo con una bella novità. Inaugureremo infatti una nuova categoria. Buon anno a tutti!